Rosina, or son contento. E mi guarda, a piccina. Son l'indoro. Oh, c'è il tempo. Aggiudizio, aggiudizio. Signorina che cercate. Presto, presto andate via. Vado, vado, non credo. Presto, 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 via di qua. Ehi, ragazza, vengo anch'io. Dove, dove, signor mio? In caserma. In caserma. Oh, questa è bella. In caserma, in bagazzara. Aiuto. Oh, cospetto, tu me vado. Oh, no, signore, qui dal noggio non può stare, qui dal noggio non può stare. Ma come, come? Io non verrà. Ma come, come? Ho il brevetto di Sempione. Il brevetto. Il mio padrone, un momento, 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 e mi mostrerò. Ma se qui le stanno non posso, prendete. Puoi me? Ci guarda. A trovarlo ancora non posso. Prudenza. Ma se sì, lo troverò. Se tu smagli e si sta sotto, a più reggere non so. Se tu smagli e si sta sotto, a più reggere non so. Se tu smagli e si sta sotto, a più reggere non so. A più reggere non so. A più reggere non so. Ah, ecco qua. Con la presente, il dottor, il Bartolo, eccetera, eccetera. E sentiamo. E andate al diavolo, non mi state più seccati. Cosa fa signor mio caro, cosa fa signor mio caro. Diccio la dottor Cialaro, figliologi che mi sa, non dite cosa che vostra. Vuoi restare, restare sicuro. Dunque lei, lei vuol battaglia? Beh, battaglia le può dar. Bella cosa. E una battaglia ve la voglio qui mostrare. Osservate, questo è il fosso. L'inimico voi sarete. Attenzione, e gli amici. Giù il fattoreto. E gli amici, standi qua. Attenzione. Ferma, ferma. Che cos'è? Ah. E può vedere? Sì, se fosse una ricetta. Ma un biglitto. È mio dovere, mi dovete perdonare. Grazie. Grazie. Grazie un corno. Qua quel foglio, quel foglio, per i denti, per i denti. Per i denti, per i denti. Per i denti, per i denti, per i denti. Per i denti. Ehi, ma. Ma quel foglio che chiedete. Per azzardo m'è cascato. È la lista del bucato. Apra, schitta, apra, schitta. Presto, 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 presto. Ah, che vedo. Il barriere. Ho preso a baglio. È la lista. Quanto ha fatto. Sul discorso. Ecco qua. Sempre un'istoria. Sempre oppresta, sempre oppresta e maltrattata. Ah, che vita. disperata, non l'ha mai avuto portata. Ah, rovina, poverina. Tu vien qua. Cosa l'hai fatto? Affermate. Niente fatto. Accaraglia, traditore. E affermatemi, signore. Io ti voglio subitar, io ti voglio subitar. E' il cae l'ulto. No, non è il cae l'ulto. E' il cae l'ulto, non è il cae l'ulto. E' il cae l'ulto, non è il cae l'ulto.